Musica Ciao a tutti spettatori e benvenuti in questo nuovo video tutorial Oggi siamo finalmente nella penultima lezione di Java E si siamo arrivati finalmente qua Oggi parleremo di un argomento molto importante per tutte le lezioni che vi ho spiegato Perché sarà bene o male per l'appunto la parte decisiva Ossia come creare un frame in Java Per frame si intende la vera e propria finestra che voi vedete di un programma Nella quale ci sono dei bottoni, delle entità, insomma delle cose Che voi andate a cliccare o visualizzate, insomma il vero programma in sé Ebbene iniziamo con delle cose molto semplici Come vedrete già dal programma che vi ho preparato ad esempio Utilizzeremo delle import che prevalentemente saranno il Java VT e il Java Swing O meglio Java X.Swing che vedete che effettivamente saranno appunto le librerie di Java Graphics Ossia la parte grafica di Java Innanzitutto che cos'è un frame? Abbiamo detto che è la finestra Come possiamo creare questo frame? Esiste una classe apposta che si chiama JFrame Effettivamente sarebbe opportuno istanziare un oggetto di JFrame Per poi mettergli le proprie proprietà, gioco di parole In modo da impostare il nostro frame come vogliamo Ma io vi insegno un trucchetto molto più coerente Ossia estendere la classe che noi creiamo Che in questo caso è la classe example Ed estenderla a JFrame In questo modo la nostra classe che abbiamo creato diventerà un frame lei stessa Solo che nel momento in cui andremo a fare un'istanza Invece di creare solo un frame e poi dovergli dare delle proprietà Farà tutto da sola Perché? Perché nel costruttore di questa classe andremo già a impostare le proprietà Per come vogliamo che venga visualizzata la nostra finestra Vi spiego meglio Nel momento in cui noi stendiamo a JFrame Come vedete nel main Andiamo a fare un'istanza di example Si aprirà la nostra finestra Ok? Come vedete noi andiamo ad estendere la JFrame Quindi il costruttore vorrà un parametro che è una string Ossia il titolo della finestra Sapete che voi quando aprite le finestre su Windows ad esempio Avete un titolo in alto sulla finestra Ebbene questo lo dobbiamo passare tramite super E qua si richiama appunto il concetto di ereditarietà Vedete che nella lezione di oggi torneranno molte cose che vi ho spiegato in Java negli scorsi mesi Dopodiché se voi avrete notato Io ho messo ad esempio delle JLabel JTextField E un JButton Allora sono tre esempi di entità che possono comparire all'interno di un frame Ma ce ne sono tantissime Però ne parliamo dopo Per ora vi ho fatto vedere il TextField Che praticamente è una textbox Ossia dove voi andate ad inserire il testo dentro un campo Che è un field, un campo Il JButton ovviamente ha un bottone Un bottone che noi cliccheremo e farà qualcosa E la label invece è una striscia Sul cui verrà scritto del testo Come vedete ognuna si istanzia come se fosse proprio un oggetto Vi ho fatto vedere che nel caso del JButton e della JTextField Le ho messe final e le ho istanziate direttamente come attributo Perché? Perché voglio che quelle siano così Punto e basta Nel caso del bottone come parametro gli passiamo alla scritta che vogliamo che compaia sopra il bottone Una volta fatto questo Il JTextField non vuole nulla JLabel ad esempio invece lo possiamo istanziare all'interno del costruttore Perché? Perché magari possiamo fare che questa JLabel in un caso successivo Cambia il testo Quindi ad esempio su questa label prima venga scritto hello world E dopo faremo qualche azione che la farà cambiare in hello qualcos'altro Quindi cambia l'istanza Cambiando l'istanza non potrà essere dichiarata final Dopodiché abbiamo una serie di proprietà che vanno a impostare il nostro frame Per come sarà poi alla fine La set size andrà a impostare la size Quindi la dimensione del nostro frame All'interno ovviamente dello schermo Set default close operation In pratica è l'impostazione di chiusura del nostro frame Quando noi andremo a cliccare sulla X di Windows La classica X rossa che poi non è più rossa in Windows 10 Finché non ci passi sopra la freccettina Bisogna mettere appunto jframe.exitonclose Che è un enunciato effettivamente che ci dà la possibilità di impostare Che quando noi cliccheremo su quello il nostro programma si chiuderà E questo è importante perché altrimenti si bugga tutto il programma alla chiusura Quindi non scordatevi di mettere questo settaggio Set location ci imposta praticamente le coordinate all'interno dello schermo Di dove si spawnerà il nostro jframe quando apriremo il programma Sarebbe opportuno metterlo al centro dello schermo Io adesso qui ho piazzato delle coordinate totalmente a cazzo Set layout praticamente ci dà la possibilità di impostare il tipo di frame Nel nostro caso mettiamo null perché vogliamo un frame di default Se non lo mettessimo avremmo dei problemi poi nel visualizzare le entità che ci sono all'interno Quindi i bottoni, le label eccetera Infatti poi vedremo Set restable che l'ho saltato ci dà la possibilità per l'appunto di dire Questo jframe lo posso allargare, ristringere oppure è di quella dimensione punto e basta Nel caso di questo esempio che ho messo su true non possiamo cambiare L'ho messo su false scusate Non possiamo cambiare la size Quindi ci darà una finestra statica e non potremo ridimensionarla Set visible true è assolutamente importante perché altrimenti non ci comparirà mai il nostro frame Quando avvieremo il programma Se vogliamo effettivamente poi nascondere il frame basterà fare un set visible false È logica, è molto simile a visual basic Se avete seguito il corso di programmazione dall'inizio, avete seguito tutte le lezioni di visual basic Avete già capito tutto di come funziona java jframe secondo me Bene, ora arriva il momento in cui dobbiamo dare una size e una location all'interno del frame Alle nostre entità, ossia il bottone, la text field e la label nel nostro caso Si utilizza set bounds Con set bounds i primi due valori saranno rispettivamente la location di dove si trovano all'interno della size Quindi orizzontale nel primo valore e a livello verticale nel secondo valore Gli diamo delle coordinate che ci permetteranno di far comparire poi insomma il nostro bottone, la nostra text field a quelle determinate coordinate I secondi due valori sono la larghezza e l'altezza ovviamente rispettivamente della nostra entità Quindi ad esempio nel caso del bottone abbiamo impostato 200 di larghezza e 20 di altezza In realtà l'abbiamo fatto per tutti quanti e li abbiamo messi bene o male uno sotto all'altro Bene, dopodiché per farli comparire all'interno del nostro jframe dobbiamo utilizzare il metodo add Add btn add tf add label e li aggiungeremo all'interno del nostro jframe Una volta fatto questo quando noi richiameremo il nostro costruttore ci comparirà la nostra finestra già completa così come l'abbiamo creato Quindi non ci rimane che andare nel main, fare un'istanza del costruttore che abbiamo esteso a jframe Nel nostro caso gli passeremo il titolo che vogliamo impostare che a sua volta verrà passato al costruttore padre Ossia della classe jframe che abbiamo importato dalle librerie avt e swing E signori detto questo il nostro frame è andato Quindi stessa cosa cmd, facciamo il path, java c, ricompiliamo, apriamo il nostro frame E ci apre la nostra finestra così come l'abbiamo formulata Ovviamente qua questa finestra non farà nulla, è un bottone che se lo clicchiamo non fa nulla E questo sarà l'argomento della prossima volta e l'ultima lezione che io vi farò bene o male di java L'ultimo argomento che spiegherò diciamo Ossia la gestione degli eventi fondamentale anche per minecraft Perché minecraft funziona tutto Cioè spiego meglio I plugin di minecraft funzionano tutti ad eventi Quindi se non capirete che cos'è un evento e come funziona in java Nella prossima lezione che sarà l'ultima Addio plugin di minecraft Quindi mi raccomando la prossima non ve la potete perdere E' ovvio che non ho la possibilità di spiegarvi tutto Nel senso che nel java graphics non ci sono solo le label, le text feed eccetera Ci sono le combo box che sono le menu tendina Ci sono le text area Insomma ci sono un sacco di cose che potete fare Vi lascio in descrizione un link di un sito che ve le spiega con degli esempi una ad una Io non ve li spiego per il semplice motivo che Uno volete che passi subito ai plugin di minecraft e quindi non ho il tempo E secondo sono fatte tutte allo stesso modo Ossia io vi ho dato le basi di java Quindi già a questo punto se avete seguito tutto e vi siete esercitati Dovreste già sapere che cosa è un oggetto, come si istanzia, come funzionano E grazie a questo tutorial sapete anche che cosa è un frame Vedete l'esempio del bottone ed è uguale Nome della classe, gli date il nome all'oggetto, istanza di quella classe E poi tramite il sito che vi lascio qua sotto vedete se ci sono dei parametri da passagli E a che cosa servono E una volta fatto quello lo aggiungete col metodo add Insomma stessa cosa, tanto lo vedrete anche nel sito che vi lascio sotto E comparirà l'entità che avete creato Tanto vi farò un esempio Prima di passare ai plugin di minecraft vi farò un esempio finale di un programma Per farvi capire insomma un po' di cose sulla java graphics Quindi non ho approfondito perché voi non volete E perché comunque è piuttosto intuitiva la cosa Se avete eventuali ulteriori bisogni di aiuto Potete scrivere il vostro problema nei commenti E vi risponderò io Magari può anche capitare che vi risponda qualcun altro tranquillamente Comunque i commenti Non contattatemi privato per queste cose eccetera Perché sapete che non posso darvi assistenza privata gratuitamente Però se scrivete un commento qua ed è una cosa veloce eccetera Che non richiede una mano d'opera diretta Sono più che felice di rispondervi e di darvi un chiarimento Detto questo nel prossimo video andremo a parlare degli eventi Concluderemo finalmente le lezioni di java Dopodiché faremo un piccolo riavvolgimento del nastro Per vedere un programma intero fatto e finito dall'inizio alla fine in java E poi finalmente creeremo i plugin di minecraft Detto questo io vi invito a lasciare un like e a condividere il video In modo tale che possa essere utile anche ad altre persone Vi ringrazio per la visione Al prossimo video Iscrivetevi per nuovi tutorial Grazie a tutti Grazie a tutti